Si vede che è una persona che è molto rispettata, che ovviamente è una grande persona, ancora una volta che ha fatto tanto per il calcio, che ha portato il Milan al top dell'Europa, penso che loro vanno a renderlo un grande omaggio, perché è una persona mitica. Zlatan quando ero piccolo all'inizio, quando sono arrivato al Milan, io non l'ho detto subito, ma ero un tifoso di Zlatan e lui era uno dei miei preferenti giocatori. Lui è un esempio per i giovani di longevità, di professionalismo, lui ha fatto tanto anche per il calcio e il Milan, eravamo molto emozionati di vederlo ritirare. Dopo l'ultima partita non aspettavo la fine della sua carriera, ma era un bel omaggio. Sì, sono molto fiero, è stato un grande piacere e un privilegio di giocare con lui. Grazie a tutti. Grazie a tutti.